Ben trovati con il TgLis di Telebari. Il referente di Libera Puglia, Don Angelo Cassano, prende le distanze dall'ingresso nella giunta regionale di Michele Emiliano come assessora alla legalità e alla cultura Viviana Matrangola, figlia dell'assessora comunale di Nardò, Renata Fonte, che fu uccisa nell'84 per aver ostacolato un progetto di speculazione edilizia. Matrangola è stata anche attivista di Libera. Don Angelo Cassano in un post su Facebook sottolinea queste le testuali parole che personalmente come referente di Libera Puglia non so nulla di questa scelta alla regione e che attualmente Matrangola non è dirigente di Libera. americani, canadesi, inglesi e olandesi sono i turisti che hanno scelto le strutture agrituristiche pugliesi per il ponte del 25 aprile e che si sommano ai 10.000 pugliesi che trascorreranno i prossimi giorni tra le bellezze e i sapori della campagna pugliese. E quanto emerge da una indagine condotta da Coldiretti Puglia, secondo cui le province di Foggia, Brindisi e Bari sono le più gettonate. Accanto all'agriturismo i turisti scelgono anche i piccoli borghi pugliesi, scrigni di tradizioni e prodotti enogastronomici unici. E adesso le altre notizie del TGDs. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, e il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, saranno ascoltati in Commissione parlamentare antimafia in merito alle recenti vicende e inchieste legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari lo ha deciso l'ufficio di presidenza della Commissione, secondo cui le date non sarebbero ancora state fissate. Non mi sottrarrò dal dire due parole sulle ultime vicende politiche e giudiziarie che hanno investito la città di Bari e questo Consiglio Comunale. Il rammarico più grande che porterò con me di questa esperienza è non avervi saputo proteggere con più forza né difendere abbastanza dalla bufera, anche mediatica, che ci ha travolto tutti. Lo ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio De Caro, intervenendo nell'ultima riunione del Consiglio Comunale Cittadino e in riferimento agli arresti e alle inchieste che hanno coinvolto esponenti politici locali. Con la Costituzione di parte civile della Regione Puglia e del Commissario per il dissesto idrogeologico è cominciata, dinanzi al GUP del Tribunale di Bari, l'udienza preliminare a carico di 12 persone, tra cui Elio Sannicandro, ex direttore generale di Asset Puglia ed ex soggetto aggiudicatore della Commissione regionale per il dissesto idrogeologico, interdetto a novembre scorso per un anno con l'accusa di aver ricevuto tangenti per 60.000 euro dall'imprenditore di Lucera, Antonio Di Carlo, in cambio di appalti per lavori al torrente Picone e della lama Lamasinata. Le parti hanno sollevato questioni preliminari sulle quali deciderà il giudice nella prossima udienza fissata il 25 giugno. La città si prepara ai festeggiamenti per la Sagra di San Nicola nelle scorse ore e si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, Palazzo Prefettura, per esaminare nel dettaglio gli aspetti salienti del programma delle manifestazioni civili e religiose in programma il 7, l'8 e il 9 maggio. Elemento di novità, l'evento previsto per il 28 aprile, quando verrà trasferita la Statua del Santo dalla Basilica alla Stazione Navale della Guardia di Finanza in occasione del 250esimo anniversario di Fondazione del Corpo. Nelle scorse ore apporta futuro anche il casting per il corteo storico. Un incontro per creare una relazione tra imprese pugliesi che sono le eccellenze del settore cibo e uno dei gruppi che a livello mondiale è tra i principali operatori del mercato internazionale del duty free. A tessere il filo fra le aziende di Puglia e EINEMAN è stato Aeroporti di Puglia che a Bari ha organizzato l'iniziativa a cui hanno partecipato più di 250 imprese. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Un uomo di 66 anni è morto a causa di una esplosione che si è verificata nella sua abitazione a Carovigno in provincia di Brindisi. A causa della deflagrazione c'è stato il crollo del solaio dell'appartamento. Non sono ancora chiare le cause dell'esplosione che dovrebbe essere dovuta ad una fuga di gas. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco. Vano purtroppo ogni tentativo dei medici del 118 di rianimare la vittima. Fingendosi un carabiniere avrebbe telefonato ad un'anziana donna di Fra Gagnano in provincia di Taranto chiedendole 8 mila euro in contanti per evitare che il figlio venisse arrestato a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale. La donna insospettita si è contattato il 112 e ha permesso così l'arresto di un ventenne originario della provincia di Napoli. Altre due ragazze, anche loro ventenni e napoletane, sono state denunciate. Con il TgList è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento.